Oggi prepariamo insieme le castagnole, delle deliziose palline fritte. In questo caso ho deciso di alleggerirle facendole senza burro ma con lo yogurt e il succo d'arancia. Oggi prepariamo insieme a tutti i nostri spettatori e insieme a tutti i nostri spettatori e insieme a tutti i nostri spettatori. Questo paletto non ha bisogno di riposo in frigorifero quindi possiamo andare direttamente a realizzare le palline. Oggi prepariamo insieme a tutti i nostri spettatori e insieme a tutti i nostri spettatori e insieme a tutti i nostri spettatori. e insieme a tutti i nostri spettatori e insieme a tutti i nostri spettatori e insieme a tutti i nostri spettatori. Il mio consiglio è quello di gustarle al momento. Come tutti i fritti d'oltre onde sono buoni da mangiare appena fatti. e uno tira l'altro grazie alla croccantezza dell'esterno e alla morbidezza dell'interno. Bene, non mi resta che salutarti, ti anticipo già che la prossima ricetta sarà dedicata a San Valentino. Quindi se non te la vuoi perdere iscriviti attivando la campanellina tutte. Un bacione! Grazie! Grazie! Grazie!